Il marchio Bugatti lascia presagire a qualcosa di eccezionale, ma è solo leggendone la storia che si può comprendere quanto sia vera questa affermazione. Vediamo di cosa è stata capace l'azienda in più di 100 anni di attività. Il cuore prima di tutto. La Bugatti nasce nel 1909 per mano di Ettore Bugatti, un imprenditore italiano che avviò la sua attività in Alsazia, regione francese, che all'epoca era annessa alla Germania. Ettore era un vero artista come la maggior parte dei suoi familiari e riuscì subito a stupire, creando di sua mano una nuova auto. Dal design unico per quei tempi, la Tipo 13 Brescia, l'eleganza di questo veicolo convince le classi più abbienti e il marchio Bugatti fu immediatamente identificato come qualcosa di straordinariamente esclusivo. La produzione continuò con la Tipo 41 Royal, un veicolo incredibile per dimensioni, che montava un motore di oltre 12 litri di cilindrata. Punto e virgola la Bugatti ne produsse solo 6 esemplari e ne vendette esattamente 3. Negli anni 30 la Bugatti cominciò a partecipare alle corse dove non mancarono i successi, la Tipo 35 vinse più di 1000 gare, fra le quali la targa Florio per ben 6 volte e la 24 ore di Le Mans, in quest'ultimo caso il veicolo era la Tipo 57S Tank. Nel 39 fu una tragedia a colpire in modo importante l'azienda, precisamente la morte del figlio di Ettore, Gin, mentre provava la nuova Tipo 57 in pista. L'inizio della Seconda Guerra Mondiale complicò ulteriormente le cose e la Bugatti cessò la sua attività in modo definitivo. In questi 30 anni potrete notare con facilità che l'azienda italo-francese non ha mai pensato a lucro e non ha mai prodotto un veicolo. Per il popolo o con lo specifico scopo di aumentare le vendite. La Bugatti ha sempre messo il cuore davanti a tutto, anche a costo di perdere denaro. Il ritorno della Bugatti. Dovettero passare molti anni prima che qualcuno pensasse di riprendere questo glorioso marchio. Nel 1987 l'imprenditore italiano-romano Artioli aprì un nuovo stabilimento nei pressi di Modena, dove venne prodotta la vettura Ebb 110. Quest'auto venne prodotta in 139 esemplari e montava uno strabiliante motore V12, costruito in alluminio magnesio e alluminio titanio. Punto e virgola il propulsore adottava una lubrificazione con cartera a secco e montava ben quattro turbocompressori. La potenza di quest'auto superava i 600 CV. Con questi dati diventa superfluo usare qualsiasi aggettivo nei confronti di questo veicolo, un'auto più unica che rara come forse. Solo la Bugatti ha saputo fare. Purtroppo, dopo soli otto anni e precisamente nell'anno 1995, l'azienda dovette dichiarare bancarotta e terminare per la seconda volta la sua attività. Come l'araba Fenice. La Fenice è una figura mitologica famosa per la sua capacità di rinascere dalle ceneri, la Bugatti dimostra di avere molta attinenza con essa e per la terza volta torna sul mercato, questa volta grazie alla Volkswagen che l'acquistò nell'anno 1998. Nasce così la stupenda Viron, un'auto capace di superare agevolmente i 400 km orari. Questo veicolo monta un incredibile motore 16 cilindri. 8 litri con cambio di SG a 7 rapporti e oltre 1000 CV di potenza, le 4 turbine già usate sulla EB110 e la trazione integrale completano ciò che potete definire un vero e proprio aereo su strada. La Bugatti è tuttora proprietà del marchio tedesco e continua la sua produzione facendo sempre veicoli da sogno dedicati ad acquirenti. Molto ricchi, si tratta pertanto della vettura più esclusiva in assoluto. La Bugatti nel 2019. Sicuramente la maggior parte di voi non sapeva molto della Bugatti, o almeno ne conosceva il nome e la fama senza averne una precisa collocazione. In molti saprete invece che la Bugatti è l'auto più bella che possiede il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Uno dei migliori modelli che il calciatore possiede è la Cairon, una coupe dotata di motore centrale, trazione integrale permanente e telaio in fibra di carbonio. La Cairon nasce per sostituire la Viron, il cui ultimo modello è stato prodotto nel 2016, e dispone di ben 1500 CV. Questa potenza permette al veicolo di raggiungere i 300 km orari in poco più di 13 secondi, un dato che si spiega da solo. Per finire, diventa necessario parlare proprio di Cristiano Ronaldo, perché il campione della Juventus ha prenotato alla Bugatti un veicolo unico prodotto esclusivamente per lui. Si tratterebbe della Lavautour Noir, un'auto che dovrebbe essere motorizzata esattamente come la Cairon e presentarsi con una livree che ricorda le astronavi di Star Trek decisamente obsolete al confronto. La parte più interessante di questa Bugatti è il prezzo, dichiarato vicino agli 11 milioni di Euro.